Si è svolto al municipio di Capodorlando l'incontro tra il sindaco Enzo Sindoni, gli assessori Cettina Scaffidi, al personale Carmelo Perrone al bilancio e il presidente del concilio comunale Gianfranco Timpanaro con le organizzazioni sindacali per discutere le strategie per uscire dallo stallo sui mancati pagamenti delle 5 mensilità arretrate ad oggi vantate da tutto il personale precario a tempo determinato. Soldi che deve inviare la regione ma che già sono diventati un debito complessivo per 900.000 euro, una paralisi quella causata dalla regione che rischia di compromettere anche i servizi che il personale precario garantisce. La CGL aveva chiesto, in attesa che la regione Sicilia stanzi il proprio contributo pari a circa il 90% del costo della retribuzione dei lavoratori contrattisti, più di 2 milioni per tutto l'anno, di utilizzare nell'immediato le entrate certe dell'acconto IMU 2014, già in scadenza questo mese, che ammontano a circa 2 milioni e mezzo di euro, utili per far respirare e garantire un minimo di tranquillità ai 139 lavoratori a tempo determinato del comune. Il sindaco Sindoni, dopo qualche giorno di verifica sulla compatibilità finanziaria dell'ente, ha risposto alle sollicitazioni del sindacato e si è impegnato a corrispondere almeno 4 mensilità dal mese di giugno al mese di settembre ed integrare tali mensilità con ulteriori due mesi arretrati qualora la regione dovesse anticipare nelle prossime settimane parte del proprio contributo finanziario. Come CGL afferma Nino Pizzino, segretario della Camera del Lavoro Cittadina, pur apprezzando tale proposta che nell'immediato può garantire le mensilità correnti, rimarremo vigili e attenti affinché sia la regione siciliana quanto il comune di Capodorlando mantengano i propri impegni, primo fra tutti quello di garantire la giusta retribuzione a tutti i lavoratori e che non ci siano più disparità tra lavoratori garantiti e quelli non garantiti, sia essi di ruolo precari.